Cari amici e cari amiche, riprende il console d'appuntamento con momenti di storia dedicato questa volta al racconto dell'Italia del referendum dell'Italia, cioè che andò a votare il 2 giugno 1946, chiamata a scegliere tra monarchia e repubblica quale sarebbe stata la forma assunta dallo Stato italiano dopo la fine del fascismo. Per raccontare l'Italia del 1946 vi propongo subito un nome, Tombolo, è una località, è una pineta tra le dune di sabbia della spiaggia tra Livorno e Pisa. Ebbene, Tombolo nel 1946 tenne a battesimo una sorta di colonia di fuorilegge, una terra di nessuno, sottratta al controllo dello Stato e della Polizia. Lì nel bosco, nella pineta, si addensò una promiscua popolazione di ribelli, disertori, neri per lo più fuggiti dalle file dell'esercito americano e di altri irregolari, prigionieri tedeschi, militari sbandati marocchini, indiani, neozelandesi e tante donne italiane di ogni età. Vi confluivano tutti i possibili traffici illeciti, dal contrabbando alla prostituzione. Grandi autocarri scaricavano frutto di rapine piuttosto facili, liquore, sigarette, penicillina. Come scriveva un cronista di allora, la carta moneta vi è esorbita e passa dalle mani dei soldati neri a quelle delle prostitute bianche con una annoiata liberalità. E a Tombolo, di colpo, si immaterializzarono i sogni e gli incubi che avevano accompagnato l'arrivo degli americani in Italia. Il sogno era quello dell'abbondanza di chi guardava gli Stati Uniti come uno straordinario paese della cuccagna. A Tombolo si trovava di tutto, un flusso inarrestabile di merci, di corpi e di animi alimentava un mercato mostruosamente ampio, in cui tutto era contrattabile, vendibile, acquistabile. Vincedori e vinti si mischiavano in osmose indistinti. La comunità installatasi a Tombolo ridefiniva le generarchie tradizionali, azzerava le distinzioni sociali, abbatteva le barriere razziali. A Tombolo, e solo a Tombolo, il pregiudizio contro i negri si diluiva, si diluiva nel vortice dei traffici e dei denari. L'incubo era il lato scuro di quello stesso sogno. Tombolo era figlio legittimo della nostra disfatta. Risalendo dal sud al nord, la guerra aveva lasciato quel suo sedimento, una scia di bava raggrumatosi e fermentatasi. Era la materializzazione dell'incubo delle nostre spose, madri e sorelle violate dei negri, quella su cui aveva insistito molto la propaganda della Repubblica di Salò. La guerra è un'esperienza estrema, lo sappiamo. L'abitudine alla violenza allenta tutti i freninibitori. È un discorso che vale non solo per la violenza politica. Nell'Italia del 1946 esisteva una più generale questione di ordine pubblico. Cessata la contesa delle armi, scriveva allora Ezio Del Rico, ci illudemmo che il massacro fosse finito, ma la morte è una falciatrice, difficile da frenare quando ha preso l'abbrivio. E questa morte è una morte che faceva vittime politiche, ma faceva anche vittime, come dire, tra la gente normale. Vito Piovene scriveva proprio allora «Il dilagare del delitto è uno dei consueti effetti di tutte le guerre. Questo dimostra in modo chiaro che la guerra non è affatto, come si pretende, uno sfogo agli istinti aggressivi dell'uomo. L'unico effetto della guerra è quello di eccitarli». Ecco, in questa dimensione, questa dimensione frantumata, in questa dimensione pieni di impulsi, di autodistruzione, di distruzione, c'era l'Italia, c'era l'Italia, un'Italia affollata di macerie, quindi morali e materiali. Due milioni di case distrutte, un milione e 600 mila disoccupati, la produzione industriale ridotta a un terzo di quella dell'anteguerra. Insomma, un'Italia in cui le ferite recenti della guerra si sommavano a quelle antiche di un paese povero, ancora essenzialmente legata all'agricoltura e con una base industriale molto ristretta, trasporti difficili e con le ferrovie che coprivano soddisfacentemente solo i percorsi lungo le due fasce costiere. Ebbene, in questo mondo opaco, le elezioni per la Costituente e il referendum monarchia del 2 giugno portarono come una gigantesca sferzata di attivismo. Ma questo lo vedremo domani.